Buongiorno Le posso convidare un segreto? Io amo la Playstation E praticamente quando vado in un negozio di elettronica Scorreggio sempre nel reparto Xbox E così vedo le facce di quei cavolo di Xboxiani del cavolo A te piace l'Xbox o la Playstation? Comprate? Sì, Xbox o la Playstation Non ti piace? No, non c'è la casa Ah ok Comunque Adesso non c'è Guardi, 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 guardi Comprati la Playstation Sì Ok Grazie, ho un segreto Andate in piano Posso convidare? No No No, voglio dire che io Non lo so più il pagnolino da quando ho 13 anni E il ciuccio da quando ho 14 anni È il ciccio da quando ho 14 anni E il ciuccio da quando ho 14 anni É il ciuccio da quando ho 14 anni Allora, io ho 14 anni Ma con un bambino Quando il bambino nasce, quello... ...e che cosa è? Ti posso contestare una cosa? E' una cosa che mi tengo dentro in un sacco di tempo. Posso? Va bene. Scusi, io sono un investigatore privato. Se mi è successo che in pratica... Va bene. Va bene. Volevo solo delle informazioni.